volete approcciarvi al mondo del collezionismo ma non sapete da dove iniziare avete bisogno di un kit pronto all'uso da utilizzare nell'immediato per proteggere i primi pezzi rari della vostra raccolta quali articoli allora potranno fare al caso vostro nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale più di una volta sono stato testimone di sbustate fortunate che hanno graziato piccoli collezionisti ancora inconsapevoli di esserlo ed ogni singola volta che tra le mani del fortunato giaceva il tesoro appena svelato ho esclamato serve una bustina qui da lì di domande da parte del favorito dalla sorte ne sono arrivate a frotte perché la bustina perché addirittura una inner che cos'è una inner devo per forza prendere un album ed ultima ma non per importanza quale album mi converrebbe acquistare da questi quesiti quindi è nata la voglia di voler portare un contenuto adatto a tutti quegli aspiranti collezionisti che vorrebbero avere a portata di mano tutto il necessario per proteggere al meglio la propria raccolta di carte già dal principio ma quando dalla bustina viene rivelata la tanto desiderata rara e così in collaborazione con la game genic quest'oggi andremo a prendere in considerazione cinque articoli che assolveranno a tale compito nel miglior modo possibile garantendo al 100 per cento la sicurezza di ogni elemento incluso nel vostro tesoretto personale prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi per voi è solamente un click per il canale invece molto importante in questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati in più non dimenticatevi di seguirmi anche su instagram e la pagina facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora troverete i link in descrizione grazie ancora in anticipo torniamo al video ed ora scopriamo assieme quali saranno i cinque migliori articoli che andranno a formare il kit pronto all'uso dell'aspirante collezionista andiamo a dargli un'occhiata le prime sleeve japan size saranno la protezione principale non appena una carta rara di formato japanese arriverà in vostro possesso estremamente trasparenti nella parte frontale ed extra opache in quella dorsale queste bustine mostreranno nel migliore dei modi l'artwork della carta risaltando in tutto il suo splendore la bellezza del vostro pezzo da collezione e se dovesse venirmi voglia di giocare arconte nessuna paura la resistenza di queste bustine vi permetterà di impiegare ogni singolo elemento mantenendolo al sicuro da fattori esterni che potrebbero inevitabilmente danneggiarne l'integrità preservando inalteratamente il valore intrinseco della carta stessa attenzione però utilizzate carte dalla vostra collezione personale solo e solo se varrà la pena farlo in che senso personalmente vado ad utilizzare carte dalla mia collezione privata di one piece perché sono consapevole che esse non abbiano una rarità estrema e quindi facilmente rimpiazzabili se dovesse accadere loro l'irreparabile ma ciò non toglie che per ogni carta inclusa nel deck riservo lo stesso grado di attenzione indistintamente che esse possano valere pochi centesimi o svariate migliaia di euro ricordate sempre che dietro una carta rara o comune che sia c'è del lavoro di qualcuno dietro che la portata dall'idea alle vostre mani quindi trattatele con rispetto tornando a noi la resistenza di queste bustine non mancherà di soddisfare le aspettative dato che per romperne una ci servirà comunque un bel grado di forza segnale che con l'utilizzo costante non vi ritroverete a dover raccogliere pezzi di sliverote per tutta la fumetteria anche nella fase di preparazione al match vi ritroverete a mescolare il mazzo nel comfort più totale non riscontrando nessun tipo di resistenza tra una carta e l'altra una buona soluzione per chi vuole sia fornire un primo scudo perfetto per mantenere al riparo la propria raccolta sia per chi non disdegna oltre al collezionismo anche una sana partita tra amici ogni tanto ok arconte ma io sono un collezionista e basta di carte formato giappo c'è un articolo che potrebbe sposare al cento per cento la mia esigenza assolutamente sì la variante completamente trasparente delle prime sleeve farà al caso vostro estremamente limpide sia sulla parte frontale che dorsale questa bustina garantirà la massima visibilità di ogni lato della carta permettendo una prima rapida valutazione dell'oggetto che tornerà utile a tutti i collezionisti sarà da notare che attraverso l'acquisto di queste bustine se vi verrà voglia di giocare potrete farlo unicamente in partite amichevoli e non da torneo dato che slip trasparenti anche sul dorso la maggior parte delle volte risulterà a norma di regolamento vietato farne uso e perché arconte per evitare che dei segni precedentemente posti sulla parte dorsale della carta ne favoriscano l'identificazione fornendo un vantaggio a chi gioca come un graffio una pressione impercettibile visibile solo contro luce o qualsivoglia fonte di riconoscimento quindi tenete a mente tale concetto prima di procedere all'acquisto per il resto la qualità sarà la stessa a parte la fase di mescolatura del mazzo che qui risulterà leggermente più macchinosa avendo queste bustine un retro liscio a differenza delle prime che abbiamo visto precedentemente che invece lo avranno matt le prime sleeve japan size saranno disponibili in 12 colorazioni diverse ad un prezzo indicativo di 4 euro in pacchi da 60 unità ideali per carte formato japanese come yugioh e vanguard con misure pari a 59 per 86 mm queste bustine costruite in polipropilene senza utilizzo di acidi né pvc rappresenteranno il primo porto sicuro da avere sempre con sé se si vorrà iniziare l'avventura nello sconfinato mondo dei tcg lato collezionismo per chi invece vorrà collezionare carte di formato standard come magic pokemon flash and blood one piece digimon e ogni carta con misura 64 per 89 mm saranno disponibili le matt prime sleeve ne abbiamo parlato ampiamente nel video i magnifici 5 per iniziare con i tcg troverete il video nella scheda in alto appena apparsa in questo momento dove ne ho illustrato le caratteristiche vi invito a recuperarlo per avere maggiori informazioni a riguardo ok arconte e se non dovessi avere dietro le bustine protettive che hai appena illustrato come farò a proteggere al meglio le mie carte qui ci sarà una soluzione pratica che potrete portare con voi addirittura all'interno del portafoglio le soft sleeve potranno perfettamente rappresentare la soluzione ideale in assenza delle tradizionali bustine protettive di fascia alta di qualità decisamente inferiore rispetto ad una prime questo sistema di archiviazione primordiale vi permetterà di tenere al sicuro le vostre carte rare da qualsiasi fonte esterna preservandone il valore fino all'arrivo a casa dove potrete infine assicurare il vostro tesoro a protezioni più sicure perché ho parlato prima di portarle con voi addirittura all'interno del portafoglio perché anche se leggermente danneggiate queste bustine assolveranno perfettamente al loro compito potendovi permettere il riutilizzo che vi tornerà utile per mettere al sicuro lungo il tragitto dalla fumetteria all'album una rara dopo l'altra perfette per fornire il giusto grado di protezione iniziale che senza potrebbe compromettere l'integrità della carta le soft sleeve saranno disponibili ad un prezzo indicativo di 1 euro e 60 in pacchi da 100 unità e saranno la soluzione ideale per proteggere le carte sia di formato standard che japanese in mancanza di bustine protettive di fascia maggiore prevenendo graffi danni e pieghe nelle parti angolari questo articolo sarà pensato unicamente per il mondo collezionistico meno per quello giocato dove ne sconsiglio personalmente l'utilizzo costruite anche qui interamente in polipropilene senza l'utilizzo di acidi in pvc saranno perfette in casi di estrema urgenza ideali anche per spedizioni ora dopo aver affrontato il settore bustine parliamo di dove queste ultime dovranno essere poste per garantirvi una raccolta di tutto rispetto di soluzioni ce ne sarebbero diverse album a 4 8 9 12 tasche con zip senza zip ad elastico con inserimento superiore o laterale e via dicendo ma per voi che state iniziando ci sarà un assortimento mirato che andrà a prendere alcune delle migliori caratteristiche appena menzionate il casual album 8 pocket risponderà alla perfezione alle esigenze di qualsiasi nuovo collezionista composto da ben 20 pagine con 4 tasche ciascuna per lato presso saldate alla struttura a caricamento laterale esso fornirà ulteriore protezione alle carte rare della vostra collezione la sua copertina di polipropilene rigido a tinta unita riporterà unicamente il logo della casa produttrice nella parte bassa a sinistra specchiato sul dorso conferendo un tocco di eleganza e sobrietà all'intero articolo il cinturino elastico xl con cuciture rinforzate inoltre garantirà una chiusura stabile e forte anche a pieno carico perfetto se vorrete collezionare interi playset avendoli sempre in ordine sotto i vostri occhi pagina dopo pagina il casual avrà inoltre quella che dalla casa tedesca chiamano color match ovvero l'abbinamento della copertina delle pagine stesse e dell'elastico tutti realizzati nella stessa tonalità di colore che per i collezionisti più ricercati potrà rappresentare quel tocco in più di stile per la propria raccolta in più questo album potrà entrare comodamente all'interno di un qualsivoglia zaino che abbia a supporto uno spazio dedicato a portatili o trasportato a mano come un qualsiasi quaderno formato a 5 se vorrete iniziare a raccogliere carte collezionabili questo accessorio sarà lo starter ideale per preservare la vostra collezione prima di accedere ad articoli di fascia più alta come lo zip up ad esempio ne parleremo più nel dettaglio in un video che arriverà presto sul canale il casual album 8 pocket sarà disponibile ad un prezzo indicativo di 11 euro ottimizzato per carte sia di formato standard che japanese a doppia bustina sarà la scelta ideale per tutti i collezionisti in erba che andranno alla ricerca di un accessorio pratico e sicuro come ogni prodotto della game genic di questa fascia anche il casual sarà interamente costruito in polipropilene senza utilizzo di acidi in pvc e potrà ospitare al suo interno un massimo di 160 carte attraverso l'utilizzo combinato di questi accessori potrete garantire la protezione di qualsivoglia elemento dal tragitto che andrà dal booster pack all'album consentendovi così di mantenere inalterato il valore che rara dopo rara arricchirà sempre di più la vostra collezione personale e voi di quale articolo descritto in questo video usufruirete per fornire un primo scudo difensivo alle vostre carte come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video